Regione Toscana, il consiglio regionale. Il consiglio regionale della Toscana si confronta per far viaggiare gratuitamente le guardie giurate e le forze armate nel trasporto pubblico locale. È stata presentata una mozione dal gruppo di Fratelli d'Italia per garantire maggiore sicurezza ai passeggeri. Il Partito Democratico ha preannunciato un nuovo atto rispingendo in aula la proposta. La mozione metteva al centro dell'attenzione la preoccupante crescita di episodi di criminalità, vandalismo e delinquenza sui mezzi pubblici toscani e chiedeva un impegno alla Giunta di riconoscere l'importanza della presenza dei membri delle forze dell'ordine e delle guardie giurate indivisa nei mezzi pubblici come veicoli per scoraggiare la delinquenza e la violenza, nonché il fenomeno dell'evasione del biglietto. Fratelli d'Italia proponeva di rendere gratuito l'uso dei pubblici servizi di trasporto per i membri delle forze armate e per la categoria dei corpi di vigilanza privata, purché indossino la divisa di ordinanza del corpo. Alla proposta il Partito Democratico in aula ha presentato un emendamento per chiedere un intervento presso il Governo nazionale e attivare un fondo a favore delle Regioni a questo scopo, ma non è stato accettato dai firmatari della mozione. A questo punto il Partito Democratico ha dichiarato il proprio voto contrario e l'atto è stato dunque respinto dalla maggioranza con 21 voti contrari, 13 favorevoli e 0 astenuti. A parer nostro oggi si è persa una grande occasione di risolvere un problema che affligge coloro che utilizzano il sistema del trasporto pubblico toscano sia su ferro che su ruota e che è il tema della sicurezza. Un tema che è da tanto tempo denunciato appunto da chi utilizza questi mezzi di trasporto, principalmente sono giovani, sono disabili, sono donne o persone anziane che vengono derubate, scippate, violentate e noi avevamo fatto una proposta di avvicinare chi gestisce il trasporto pubblico con chi si occupa di sicurezza nella nostra regione. In questo caso sia le forze di polizia provinciale che le guardie giurate ha la condizione che viaggiassero in divisa. Purtroppo oggi il PD ha confermato questa incapacità di cogliere le idee a costo zero perché il PD purtroppo è capace solamente a spendere e a bruciare risorse pubbliche e ha portato un emendamento che a parer nostro era irricevibile. Mentre noi dicevamo che la regione toscana che è l'organo competente alla gestione del trasporto pubblico doveva organizzare un tavolo per mettere d'accordo il gestore con appunto chi fa sicurezza in Italia e a costo zero farli viaggiare gratuitamente per essere come detenzione nel trasporto pubblico, il PD ha fatto un emendamento perché ora è una classica mossa quella di impegnare il governo a inserire delle nuove risorse quindi a spendere nuovi soldi per una cosa che secondo noi invece poteva essere totalmente gratuita. Questa purtroppo sarà una prassi dei prossimi mesi, hanno già iniziato a farlo, ancora il governo non è formato e già loro vogliono impegnarlo su cose che noi non siamo ancora in grado di impegnare. Comunque peccato perché si è persa un'occasione per risolvere un problema a costo zero e il PD in questo è il numero uno a fare i bilanci in rosso e a non risolvere i problemi. Indubbiamente il tema della sicurezza sui mezzi pubblici di trasporto è un tema centrale. È un tema che oggi vede coinvolti cittadini, molto spesso donne, persone deboli che si ritrovano in situazioni anche di evidente pericolo. Quello che chiedeva la mozione era di favorire in qualche modo e di dissuadere anzi attraverso la presenza di personale indivisa sostanzialmente appartenenti anche agli istituti di vigilanza che in qualche maniera fossero come dire da dissuasore di certi tipi di comportamenti. Personalmente credo che ad esempio la presenza anche delle forze armate che possano viaggiare gratuitamente anche sui treni è un segnale anche di attenzione a chi molto spesso porta la divisa e chi spende anche la propria vita proprio per sostenere questo tipo di situazioni. Così non è stato, non c'è stato un approccio costruttivo, si fa una questione di costi quando invece oggi la questione della sicurezza deve essere al centro anche dell'azione politica. Quindi ecco, anche in questo caso riteniamo un'occasione persa e soprattutto un mancato segnale a cittadini dell'attenzione, ripeto, su un tema che oggi invece è fondamentale. Garantire la sicurezza degli utenti su autobus e treni. Questo per noi è fondamentale e evidentemente per la maggioranza non lo è. La sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico a livello regionale ci sta a cuore, ci sta molto a cuore come maggioranza e come gruppo del Partito Democratico. E proprio per questo avevamo chiesto con un apposito emendamento, a mia prima firma, al gruppo di Fratelli d'Italia, al collega Veneri, il primo firmatario della mozione che chiedeva la gratuità per gli aderenti a gruppi di vigilanza privata di poter usufruire gratuitamente del trasporto pubblico locale. E con un apposito emendamento abbiamo chiesto che ci facesse carico, tra le altre cose, di appellarsi al governo futuro nascente per istituire un fondo che ristorasse le regioni tutte, dei mancati introiti rispetto alla gratuità per i componenti delle forze dell'ordine. La regione toscana fin dal 1998, legge 42 del 31 luglio 1998, ha dato vita ad una convenzione con le forze dell'ordine tra le principali, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia Penitenziaria, ad esempio, della possibilità di viaggiare gratuitamente sui nostri mezzi di trasporto pubblico a livello regionale, siano essi su gomma o su ferro, al fine di garantire con la loro presenza una maggiore sicurezza per gli utenti, per i passeggeri e al tempo stesso anche per i personali di bordo. Questa convenzione funziona fin dal 1998 e consente ai gestori del trasporto pubblico locale di essere ristorati per i minori introiti legati al fatto della gratuità per i componenti delle forze dell'ordine. Quindi noi rispetto a questa mozione abbiamo presentato una serie di emendamenti e in narrativa sostitutivi o soppressivi e nell'impegnativa che il collega Veneri ha dichiarato anche in aula accettare per il 99%, salvo le ultime due righe con le quali noi chiedevamo di attivarsi nei confronti del governo perché si desse vita ad un fondo nazionale che consentisse alle regioni di poter ristorare questi mancati introiti ai diversi gestori. Per capirsi si ragiona di 450 mila euro, 500 mila euro l'anno che la regione toscana ad esempio ristora ai gestori del trasporto pubblico locale per poter consentire alle forze dell'ordine di poter viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico locale. Questa è una cosa che ci sta molto molto a cuore e proprio per questo ho annunciato in aula che presenteremo una mozione nostra come gruppo del partito democratico e di maggioranza che governa la regione toscana affinché si riprendano quegli emendamenti presentati e ripeto per il 99% accettati dal proponente collega Veneri ma comprensivo anche della richiesta legittima non fuori luogo di chiedere al governo di impegnarsi nei confronti delle regioni che hanno questo genere di convenzioni ripeto la Toscana è dal 1998 che ha questa convenzione perché a noi la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico sta molto molto a cuore e quindi con forza chiediamo di istituire questo fondo che ci consente di allargare la platea degli usufruenti la convenzione già in essere anche ai corpi di vigilanza privata anche agli uomini e le donne della guardia costiera anche agli uomini e le donne della polizia municipale a tutti quei soggetti che con loro presenza o in divisa o in borghese purché dichiarandosi al controllore o al personale di bordo della loro presenza garantiscano la possibilità di poter intervenire laddove ce ne fosse assolutamente necessità. E' importante che ci sia una misura del governo insieme a una misura regionale che consenta alle forze dell'ordine di viaggiare nei mezzi pubblici senza dover pagare il prezzo del trasporto nel momento in cui si recano al lavoro è un elemento positivo credo che si possa arrivare ad un elemento di convergenza nelle prossime settimane se anche da livello nazionale si possa sostenere questa che è una misura che a nostro avviso è positiva. Era una proposta di buonsenso quella di dare la possibilità agli appartenenti delle forze dell'ordine di usufruire dei mezzi pubblici gratuiti naturalmente quando sono in divisa per andare o uscire dal lavoro lo fanno già molte regioni lo fa la regione Lombardia lo fa la regione Abruzzo lo fa la regione Campania lo fa la regione Sicilia oggi abbiamo scoperto che il partito democratico è contro le forze dell'ordine era di buonsenso per una serie di motivi il primo fra l'altro per garantire la sicurezza sui mezzi di trasporto sui treni sugli autobus sul trasporto di linea sul tpl pubblico per i cittadini che montano sull'autobus che molte volte si trovano stagio di borseggiatori magari di piccola delinquenza di piccola criminalità avere la presenza delle forze dell'ordine indivisa sul trasporto pubblico è un deterrente per chi vuole delinquere guardate ci è stato detto non lo possiamo fare perché costa a prescindere dal fatto che la sicurezza per il centrodestra e per Forza Italia non è mai un costo ma è una cosa che noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini e l'elemento che abbiamo detto è ma se è un costo recuperate l'evasione dai biglietti noi abbiamo il 24% di persone che salgono su un treno che salgono su un pulma che salgono sul trasporto pubblico che non pagano il biglietto basterebbe recuperare quella scifra lì per dare per garantire di viaggiare gratis agli appartenenti delle forze dell'ordine e di far viaggiare sicuri i cittadini che scelgono il trasporto pubblico è giunto al termine l'annuale concorso indetto dal Corecom Toscana e Spot 2022 rivolto ai videomaker il tema di quest'anno era cancella l'odio e in una conferenza stampa sono stati presentati i video vincitori della rassegna ogni anno cerchiamo con questa occasione di coinvolgere i tanti giovani che lavorano nel settore della comunicazione attraverso gli spot, attraverso piccoli film e cerchiamo di lanciare dei messaggi che sono legati alle tematiche che insistono sulle condizioni delle nostre quotidianità quest'anno abbiamo voluto impegnarci sulle parole d'odio perché consideriamo che quello che accade attraverso gli strumenti di comunicazione spesso grandi opportunità da una parte ma anche molte insidie e allora i giovani toscani hanno presentato alcuni spot molto belli è stato difficilissimo selezionare i migliori lo abbiamo fatto con fatica facendo emergere tre bellissime esperienze che potrete vedere sui canali della regione toscana del consiglio regionale naturalmente del Corecom della Toscana è stata bella, importante in tanti hanno partecipato permettetemi di ringraziare Enzo Broggi il presidente del Corecom per l'importante lavoro e per l'impulso che ha dato a iniziative come questa noi durante abbiamo voluto dedicare la scorsa festa della Toscana che è la festa dei diritti proprio a questa battaglia una battaglia culturale contro il linguaggio d'odio che spesso troviamo in rete è bello sapere che ognuno di noi può e deve fare la sua parte perché quello che accada accada sempre meno e ragazzi voglio mandare un messaggio non siate mai indifferenti di fronte a tutto questo e come il video che si aggiudica il primo premio termina con un colpo di spugna contro le parole d'odio io credo che noi dobbiamo fare la nostra parte essere a fianco a tutti coloro i quali si impegnano in questa direzione e allora il compito delle istituzioni è quello di non voltarsi mai dall'altra parte di sostenere ogni iniziativa, ogni progettualità andando nelle scuole per segnalare quanto oggi sia importante questa battaglia contro le parole d'odio Allora, Pastello Rotto era importante un messaggio che sia semplice la semplicità ed è difficile oggi perché nessuno vuole sentire più le lezioni anche negli spot pubblicitari, nel cinema si cerca sempre l'immediatezza e alla fine la voce delle bambine poteva essere la soluzione a raccontare, a sensibilizzare sul tema dell'odio dell'odio su internet dell'odio verso gli altri di non avere odio ma verso le persone quindi la voce delle bimbe e poi soprattutto il parallelismo tra una bambina che parla quindi spesso le persone che perdono tempo a giudicare mentre l'altra fa, ascolta e non si cura di queste cose perché sono futili pensa solo a fare il disegno quindi nelle azioni delle bambine in quel piccolo dialogo si poteva riassumere tutto il tema di quest'anno